Dopo la marcia dei trattori dello scorso weekend organizzata da Coldiretti a Lecce, questa settimana la protesta si sposta a Bari con la manifestazione di Agri Insieme, il coordinamento delle organizzazioni agricole CIA, l'Aleanza delle Cooperative Settore Agroalimentare e Copagri. Domani infatti in occasione del Consiglio regionale delegazioni di agricoltori provenienti da tutta la Puglia si ritroveranno sotto la sede del Consiglio e chiederanno di essere ricevuti dal Presidente Michele Emiliano a cui consegneranno un documento di richiesta per affrontare l'emergenza xylella fastidiosa. Lo stesso governatore ha partecipato alla mobilitazione che si è tenuta lo scorso sabato durante la quale sarebbe stato anche fortemente contestato dagli agricoltori. Dall'Europa, stando alle rassicurazioni del Presidente, potrebbe arrivare presto una buona notizia, ovvero l'eliminazione del divieto di reimpianto nelle zone in cui sono stati eradicati ulivi colpiti da xylella che consentirebbe alle aziende di salvare le attività. Dal governo italiano invece, aggiunge Emiliano, dovrebbe aggiungere la dichiarazione del secondo stato di calamità mentre la regione si è impegnata anche per contattare le banche. Era l'ottobre del 2012 quando fu data la prima segnalazione di anomali, di seccamenti, su un appezzamento di olivo, i primi sintomi della xylella fastidiosa che oltre a seccare gli alberi prima a Lecce, poi a Taranto e a Brindisi, ha cambiato il tessuto economico e sociale pugliese. Oggi gli etari compromessi da xylella fastidiosa sono 140.000. La malattia avanza inesorabilmente, ci sono agricoltori da anni senza reddito ai quali vanno date risposte immediate. L'intero settore è messo in ginocchio dall'avanzare del battaglio killer degli olivi e sul piede di guerra. Serve con urgenza, secondo l'Accol di Rettipuglia, un nuovo provvedimento di declaratoria di stato di calamità naturale che ricomprenda anche le aree dichiarate infette negli ultimi due anni, in modo da poter completare l'istruttoria delle pratiche per consentire ai coltivatori di poter essere sostenuti dalle risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale. Vanno inoltre erogati i fondi destinati a rimborsare l'estirpazione obbligatoria delle piante e a ciò, ha concluso l'Accol di Retti, va aggiunta la moratoria su crediti, mutui e contributi che rappresenterebbe una boccata di ossigeno per l'azienda vicina al collasso.